Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento intimo di X-Bionic Vedremo sia la parte superiore che la parte inferiore e poi anche un po' di calze del marchio X-SOX Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Prima di vedere l'abbigliamento nei suoi pregi e difetti voglio fare un piccolo excursus sulla scatola in cui vi arriva l'abbigliamento Perché è una scatola veramente curata molto bene nei minimi dettagli E soprattutto ad avere un sacco di informazioni su tutte le tecnologie che vengono utilizzate nei capi che andrete ad acquistare In più sulla scatola trovate un codice da registrare sul sito di X-Bionic In modo tale da avere una garanzia estesa nel caso in cui doveste avere problemi col prodotto Però vi assicuro trovate scritte su queste scatole tantissime informazioni Tanto che io ora la scatola me la tengo qua aperta perché mi aiuterà anche per raccontarvi questo abbigliamento Perché le tecnologie sono talmente tante che devo leggere bene un po' anch'io Iniziamo dunque a guardare maglia e pantalone Innanzitutto fanno parte della connessione Explorer 4.0 E hanno una tecnologia molto importante che si chiama 3D Bionic Sphere Praticamente questa tecnologia va a creare dei canali d'aria che ci tengono al caldo d'inverno O comunque quando fa freddo E ci tengono belli traspiranti d'estate E ci tengono bene al fresco Questo perché questa tecnologia va praticamente a creare dei canali d'aria Nelle zone in cui si suda di più Per far sì appunto di stare al caldo e stare al fresco d'estate Tanto che infatti della maglia io ho la versione a maniche lunghe Ma existe anche la versione a maniche corte per l'estivo Questi canali d'aria sono presenti sulla maglia Tutta la parte del petto, della schiena e nella parte bassa della schiena E invece sul pantalone tutta la zona del ventre E anche la parte bassa della schiena C'è da dire che davvero tengono veramente molto caldo Ma quello che mi ha sorpreso è anche la traspirabilità Perché vi assicuro io ho avuto modo di utilizzare questo abbigliamento Davvero in un range di temperatura molto ampio Che va dai più 12, più 13 fino ai meno 10 Quindi abbiamo più o meno una 20, 23 gradi di range E mi sono trovato veramente molto bene L'aspetto che lo fa andare così bene in questo range di temperatura Che questa tecnologia è pensata per tenere il corpo sempre a 37 gradi Quindi se all'esterno c'è un'aria fredda Tenderà a scaldare il corpo e tenerlo a 37 gradi Se attorno abbiamo un'aria molto calda Tenderà ad avere un effetto che andrà a raffrescare il corpo Così da tenerlo a 37 gradi È una tecnologia difficile da spiegare Perché davvero è molto molto tecnica Però vi assicuro che utilizzata dà veramente quel qualcosa in più Infatti voi lo vedremo e ho avuto modo di utilizzarli Sia come primo strato facendoci alpinismo Sia come strato singolo correndo Va bene in entrambi i casi Un altro aspetto molto interessante che si trova soprattutto sulla maglia È che questa maglia è pensata per quando andiamo a portare anche degli zaini Tanto che nella parte sopra le spalle e attorno alla vita Ovvero praticamente dove vanno accadere gli spallacci e la fascia lombare Troviamo una zona che va a distribuire molto bene il peso degli spallacci e la fascia lombare A far sudare poco Ma soprattutto ad evitare che ci sia attrito È veramente appositamente studiata in questo caso Proprio per poter portare degli zaini anche pesanti Per questo appunto vi dicevo che prima l'ho utilizzata anche come primo strato Facendo un po' di alpinismo Per quanto riguarda poi tutta la parte di materiali Beh bisogna dire che qua X-Bionic veramente è ottima Troviamo tutta una parte superiore per quanto riguarda il pantalone Nel bordino fatta veramente molto bene Poi il pantalone è un pochino alto Copre un pochino anche la parte bassa della pancia E veramente aiuta tanto quando fa freddo Bello elastico poi tutta la parte di bordo superiore e inferiore Davvero fatti molto bene E altrettanto bene fatto il bordo della maglietta Sia che si ha il collare attorno al collo Sia che si ha il bordo inferiore C'è da dire veramente che c'è uno studio dietro Di materiali e di tecnologie non indifferente Questo abbigliamento poi su tutta la parte di ginocchia e di gomiti Presenta anche una tecnologia chiamata Sunbar System Che praticamente va a proteggerci Sia eventualmente da caldo o freddo Ma anche da eventuali sfregamenti C'è da dire che davvero abbiamo una parte di tessuto fatta in un modo diverso Proprio si vede anche visivamente parlando Che fa sì che proprio ci aiuti di più In quelle zone in cui magari sono un pochino più delicate In cui si struscia di più Veramente molto interessante Io l'avevo già provato anche su un vecchio pantalone di X-Bionic Mi hanno trovato molto molto bene E riconfermo su anche questi nuovi modelli Che è veramente eccezionale Ma parliamo anche un attimo di calze Io ho provato due modelli di X-Sox In particolare un modello diciamo estivo, basso Che può andar bene sia per il trekking che per il trail E un modello più diciamo autunnale, invernale Che va bene un pochino più per il trekking ed alpinismo C'è da dire che queste calze sono veramente eccezionali Hanno un'imbottitura sia nella parte davanti sulle unghie dei piedi Sia sulla parte posteriore sul tallone Che comunque tutta la parte anche del collo del piede Veramente eccezionale Molto traspiranti entrambe Soprattutto quelle estive Io le ho utilizzate quest'estate Quando c'erano 40 gradi E davvero ci ho sudato pochissimo E quelli invernali sono molto traspiranti Ma allo stesso tempo anche abbastanza calde Si asciugano poi molto velocemente Nel caso in cui vi doveste bagnare Davvero c'è da dire che sono delle calze fatte molto bene Si nota tutta la cura dei materiali Si nota ad esempio che Nella parte del collo del piede Il materiale è un pochino più traspirante Proprio per fare andare a evacuare Tutta la parte di sudore C'è da dire davvero che sono fatte molto bene Sono delle calze secondo me Che se state cercando proprio una calza Col quale essere sicuri al 100% Che non avete problemi di vesciche Sicuramente queste sono veramente ottime Ma arriviamo naturalmente anche a parlare di prezzi Perché quando la roba è tanto tecnica I prezzi si sentono Parliamo di 140 euro per il pantalone E 150 per la maglia Poi comunque online si possono trovare dei prezzi anche inferiori In base alle varie offerte che si trovano Vale la pena? Secondo me sì Secondo me sì se fate davvero delle attività Molto aerobiche Molto molto intense Cioè se fate un classico trekking Magari allora sono anche fin troppo Ma se fate dell'alpinismo O probabilmente anche del trail running invernale Ci possono stare molto molto bene Come primo strato secondo me È difficile trovare qualcosa Che veramente superi a livello di tecnologie Questi qua di X-Bionic Per quanto riguarda le calze Qua stiamo sui 20-25 euro A singolo paio Come dicevo sono delle calze eccezionali Soprattutto per chi soffre di vesciche Con queste sicuro non le potrete avere Sono delle calze che va bene Magari costano un pochino di più rispetto alla concorrenza Ma ne vale veramente la pena Anche perché vi assicuro Soprattutto con queste qua corte Non so quanti trekking ci ho fatto Non so quante ore di corsa ci ho fatto E non hanno ancora nessun buco Tendenzialmente una calza A me normalmente si sarebbe già bucata In diversi punti Se non fosse stata così ottima Perciò ragazzi Io nella speranza sia stato esaurimento esattivo Anche per questa recensione Vi ringrazio per aver guardato E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao